Ben arrivato nel paese dei palocchi Si vorrebbe un miracolo per poterci salvare Si vorrebbe un miracolo per curare il nostro male Un miracolo per poterci salvare Si vorrebbe un miracolo Signorone Aioele, lei a giugno ha fatto la richiesta al sindaco per un passamano qui? Per poter mi ricara sul posto di lavoro Ancora tutt'oggi? Tutto oggi niente Vi hanno fatto sapere qualcosa? Niente No, io non posso stare così, non posso raggiungere il posto di lavoro Cioè io lavoro qui, quindi io ho la paura Ho paura di camminare, questo è il concetto Quindi se non ho l'appoggio al muro non posso stare in questo caso Se comincia il maltempo sono fregato Questo è il concetto Quindi se non hanno soldi lo faccio io Lo faccio io, non è un problema Vuole dire qualcosa al sindaco? Che pensasse meno al fasto e più alle cose naturali E più alle difficoltà della gente In questo caso è toccato a me Ma può toccare a tutti Io auguro che non tocchi a nessuno Però a me è toccato Quindi che stia più attento a queste cose A queste situazioni Non a qualche altra cosa insomma Secondo me, visto che ci non do parte Scusami, vuol dire che ora sono? Sono le 7.51 Faccio io Di quale giorno? Nel 26.11.09 Grazie Per poterci salvare Ci vorrebbe un miracolo Per curare il nostro male Allerì! Allerì!